io ho fatto gli atti con lui io col figlio invece il lunedì lunedì in particolare ma il lunedì era impossibile nell'invito dell'invito non iniziano guardate cos'è terribile non lo ricordate, ma lo ricordo io, era Cardellicchio non lo ha ancora messo in avanti, non lo ha ancora messo in francese mamma mia, ti metti le cose in base all'errore faceva, sono matematico, infatti io il primo trimestre lo ricordo perfettamente il primo compito è uno, due e tre la vagella è il primo trimestre due allo scritto e quattro l'orate no no, però lancio pure i pricinelli che era preparata mi ricordo Celestino a Celestino a Celestino a Celestino a Celestino a Celestino che sempre andiamo a fare di risume a fare l'arbitro ma poi era un'arbitro di Celestino e che non uscè? non ho ricorda Celestino che non uscè? sì, era un'arbitro di Celestino e che non usciamo l'educazione fisica ma ti ballare te da guardare no, cosa? milione, i milioni no, non lo hai trovato a Roma il miglione è un po' di che è il Gertro la miglione era un Gero si, il Gero la miglione di educazione fisica è il mio- è girato e manata capo sotto lo che non lo sapete scattato girando sempre abbronzata poi non sono né fotogenica non mi deve fare sempre foto come ritrovo postato instagram ma ieri che vediamo non sembrava sempre l'attoletto si 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 comandante dei vigili comandante dei vigili del fuoco ma che l'hai una foto